E' in corso di svolgimento a Gioia Tauro l'edizione Calabria del Fertility Day, evento incentrato sul tema della prevenzione e di l'importanza sanitaria degli aspetti legati alla procreazione. Si tratta di una campagna del Ministero della Salute nata per promuovere, informare e formare. A curare nel dettaglio gli approfondimenti su prevenzione e problematiche legate alle malattie sessualmente trasmissibili, un team di esperti riunitisi nella sala stampa del centro Gatic di Gioia Tauro, centro di eccellenza europeo in Calabria, fiore all'occhiello della sanità regionale. La discussione si è incentrata in particolare sull'importanza dello screening femminile e maschile e sulle necessità terapeutiche, oltre agli aspetti psicologici dell'intero percorso. L'edizione Calabria del Fertility Day ha inoltre colmato un gap che si era creato. La Calabria rischiava infatti di essere l'unica regione italiana a non partecipare alla campagna promossa dal Ministero. Fertility Day purtroppo è stato al torno moltissima pubblicità probabilmente sbagliata o probabilmente un Godzilla marketing come la chiamiamo noi, ma alla fine dovrebbe essere solo la prevenzione di quello che uno dovrebbe salvare la sua fertilità perché purtroppo la donna italiana ha un primato abbastanza triste perché nell'Europa la madre italiana come primo figlio è 37.4 e abbastanza di età grande per età fertile. Da Gioia Tauro per l'AC News 24